Il reddito di cittadinanza sarà abolito dal 1 gennaio 2024. E' questa la decisione presa dal governo della Presidente Giorgia Meloni dopo un Consiglio dei Ministri riunitosi nella tarda sera del 21 novembre. Fino a quel momento il sostegno continuerà ad essere erogato a tutte le persone in possesso dei requisiti, ma per le persone in grado di lavorare durerà al massimo 8 mesi. In base a quanto scritto sulla manovra, infatti, dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni abili al lavoro, ma che non abbiano nel nucleo disabili minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7-8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. E' inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza decade il beneficio del reddito. Si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta a Congroa. Ne abbiamo parlato con il dirigente del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Intilla, per capire la situazione in città. Le dichiarazioni di ieri annunciano una linea di politica pubblica che tende nel breve periodo a ridimensionare il beneficio per la categoria di beneficiare il reddito di cittadinanza considerata occupabile e che attualmente è presa in carico dai centri per l'impiego. E nel medio periodo l'estinzione della misura per questa stessa categoria è l'introduzione di una nuova misura di intervento che non sappiamo se modificherà la denominazione o resterà la stessa denominazione di reddito di cittadinanza che invece ha come destinatari i cosiddetti non occupabili o non immediatamente occupabili che rappresentano quella categoria di beneficiari che è attualmente già in carico ai servizi sociali dei Comuni. Io ho preciso che già i Comuni svolgono diverse attività sulla implementazione del reddito di cittadinanza e in particolare si occupano dei controlli anagrafici per tutti i beneficiari, sia quelli in carico ai Comuni, sia quelli in carico ai centri per l'impiego. E nel caso di Caltanissetta l'attività è capillare e riguarda il 100% dei beneficiari. Questi controlli hanno consentito in questi anni di verificare i requisiti, le condizioni di accesso alla misura laddove sono state riscontrate le anomalie e sono state segnalate all'Inps che ha assunto i conseguenti provvedimenti sospensione della misura, revoca nei casi più gravi. Quindi ritengo che questa attività i Comuni continueranno a farla e quindi da questo punto di vista noi siamo già attrezzati. Il numero dei beneficiari sul territorio al momento il dato è chiaramente dinamico, non è statico al momento siamo all'incirca sui 2.400 beneficiari di cui poco meno del 50% sono in carico al Comune e la restante parte al centro per l'impiego. Quindi ci attestiamo sui 1.200 circa beneficiari. Grazie. Grazie.